In diretta da Gubbio per TV Saccoccione Channel, eccoli qua, sono arrivati, sono Samuele e Alforisio Arturo Matteo, ho detto Paolucci, come è andata la gara ragazzi, come è andata? Va bene, bella gara, impegnativa, parlate uno per volta, il terreno era abbastanza insidioso, la pioggia caduta in questi giorni l'aveva reso abbastanza scivoloso, però il complesso l'abbiamo terminata, quindi bene. Come dice il mio amico Samuele, la gara è stata molto molto dura, un grandissimo fango, però devo dire che siamo arrivati fino alla fine, molto soddisfatto della gara, del posto, della gente, ragazzi, alla prossima. Complimenti agli organizzatori, ci dispiace per il tempo, però vabbè, la gara è andata, alla prossima. Ed eccolo, sì, siamo in onda, siamo in onda, un altro dei nostri protagonisti, purtroppo gara non terminata, c'è stato qualche problema, qualche risentimento muscolare? Qualche risentimento muscolare, il mio braccio ancora non è al 100%, prometterò a tutti che sarò al 100%, forse in Sardegna, più di questo non posso dire. E comunque soddisfatto di questa riabilitazione, velocissima, ultrarapida, però ancora il braccio non va, non va, non va. Ok, dai, aspettiamo tempi migliori, stringiamo i denti, eh? Stringiamo i denti, i denti, i denti, i denti, i denti. E' uguale.